Tra il maggio e il luglio del 2019 aveva commesso tre furti tra Serra di Falco e Canicattì insieme ad altre persone e per quelle accuse è stato condannato a cinque anni e due mesi. Adesso la giustizia gli ha presentato il conto per i suoi trascorsi ed è scattato l'ordine di esecuzione pena per un disoccupato di 43 anni di Canicattì, il quale è stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere agrigentino di Contrada Petrusa. Ad emettere l'ordine di esecuzione della pena è stato l'ufficio esecuzioni penali della procura di Caltanissetta. I militari dell'arma si sono presentati a casa dell'uomo, il quale ha capito subito la ragione della presenza dei carabinieri e li ha seguiti senza fare resistenza. Dopo aver sbrigato le normali pratiche burocratiche del caso, il 43enne è stato accompagnato in carcere per scontare la pena.